una ragazza che è un arcobaleno di colori che ci sta mostrando il lato migliore di sé in questo momento vedi vedi che ha vinto la timidezza e adesso è insieme a noi per la diretta hai vinto anche una bambolina regalo e un giro gratis sulla ruota panoramica quella ti interessa quella sapevo ti interessava benvenuta come ti chiami da dove vieni giorgia da trento ti hanno detto che manchi un po nell'aria brava brava e sul pezzo ci ho provato e per attentissima l'avevo vista un pochino qua e la invece c'è qui con noi bravissima cosa no no tranquillo tranquillo allora cosa festeggi da noi questa sera l'addio al nubilato di chi tuo pensa che bello non lo so magari sei sei così estroversa sei così colorata che giri così allora quando ti sposerai e con chi il 6 ottobre con stefano 6 ottobre data gettonata è già due o tre questa sera quindi vi state trovando si 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 occuperete tutte le chiese della della provincia allora come mai intanto hai vedo un bouquet goloso forse il bouquet più goloso della storia del mondo per vari motivi per vari motivi sia per le caramelle sia per il resto che non non descriveremo ma io volevo capire come mai questa coda così colorata da dove arriva e deriva dalla testimone ha deciso che dovevo essere colorata in questa serata quindi non ha nulla a che vedere col tuo carattere col tuo lavoro no allora carattere si lo so descriviti descriviti come ti vedi adesso in generale il tuo carattere come ti vedi solare solare molto bene poi poi non saprei ti mettiamo ne rompi palle c'è anche quello bisogna essere sinceri poi poi vieni 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 qui e andiamo al centro poi cos'altro simpatica se e poi non lo so vabbè direi che lo dicono gli altri tre aggettivi sono più che abbastanza facciamo allora un saluto a tutti facciamo un saluto a chi è con te questa sera e ti auguriamo buon divertimento ciao